Ciao! Lei è Amélie, una studentessa francese. È in Italia per studiare moda. Olga e Peter hanno trovato un nuovo lavoro. Fra pochi giorni arriveranno in Italia. Ecco George! È in Italia per l'arte, il buon cibo e la bella vita. Lui vuole divertirsi. Loro vogliono farsi capire. Lei vuole imparare. Cosa li accomuna? La loro voglia di pensare italiano. Sì! Avete capito bene! Pensare italiano. Language Naturally è un metodo linguistico immediato, pratico e naturale. Apprenderai una lingua a te straniera come se fosse la tua lingua naturale. Uno strumento didattico che capovolge i tradizionali metodi di studio, immergendoti sin da subito in situazioni reali. Language Naturally sviluppa in te l'innatto senso di esprimersi senza difficoltà e imbarazzo. Il tuo viaggio in Italia inizia qui. Dal tuo tablet a smartphone. Per arrivare al nostro campus e vivere l'Italia come fosse casa tua. Language Naturally. Naturalmente italiano.